L'utente interno, quindi gli operatori tutti compreso il direttore generale, quindi una visione rispetto a quella che è l'esterno, quindi il cittadino direi in tutte le sue facce che rappresenta il cuore e il motivo per cui noi esistiamo, un'integrazione, un'interazione formida, quindi fattori e tasselli, quella che definiamo smart city, quindi una città a dimensione, una città che offre servizi in tutti e tutti per quello che è il cittadino. Quindi la storia non è di oggi, noi siamo particolarmente direi indietro per chiedere di andare in modo puntuale, non solo, poi vi dirò dopo, a un bilancio di previsione di un certo tipo, conseguentemente a un'impostazione di pace, ma in modo puntuale, per ogni sito che stiamo lavorando in tal senso e a breve insomma ci saranno partecipanti e vince la vita. Grazie. Grazie al direttore generale di Careggi.